Ciao ragazzi, nel video di oggi vedrete un esempio perfetto della gentilezza del popolo arabo adesso lo racconto ma prima vi voglio far vedere questa casetta che sto vendendo guardate che bel giardino, è stata messa in vendita adesso, ancora non è venduta due camere, bagno e cucina, un giardino fantastico questa piscinetta, ovviamente adesso è vuota, il proprietario è inglese comunque, stavo facendo un video sul succo di Asab che è un succo speciale ed unico che c'è in Egitto lo stavo facendo per il canale inglese e una signora me l'ha offerto per ringraziare che stavo promuovendo l'Egitto per invogliare i turisti a venire mi ha offerto un succo la maggior parte degli egiziani sono gente molto cordiale e molto simpatica certo, quando venite dovete essere attenti c'è chi per strada, soprattutto nelle zone turistiche vuole soltanto guadagnare dalla vostra amicizia ma in generale l'ospitalità, la cordialità è una caratteristica di questo popolo guardate il video, scoprirete anche questo succo fantastico ci vediamo alla prossima quindi, questo è uno dei miei piaciuti e come potete vedere qui hanno carcadè, guadava, mango differenti sui voglio avere Asir Asab big o small? big so ragazzi, come vi ho detto prima, guardate quanto interessante è potete venire? potete venire? no 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 questo è il succo è il succo questo è il succo e si viene dentro qui ecco wow e qui puoi vedere il succo di succo di succo che fu fuori Wow, and the juice is flowing down, beautiful Thank you very much As you can see there is a kind of foam on top It's pretty liquid I love it, it has a unique flavor, it's sweet, but not excessively sweet And really the taste and the nuances are unique because you can still feel the vegetable Say what? This is actually a pretty big glass Tennis of champagne is like half a dollar for this It's delicious, this should be more famous than mango Why people just know mango? What's your name? Benna Okay, this gentle lady just offered me, she just offered me this juice So please, the Egyptian people is so friendly It's one of the best things here Thank you very much Thank you very much I just wanted to show you this because it was a genuine moment that shows how Egyptian people is really friendly and welcoming to Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video Intanto mettete like e condividete così mi aiutate ad espandere il canale Thank you very much Let me show you content from the bottom 下